Buona prestazione, forse abbiamo giocato, stavamo giocando meglio quando eravamo in 11, poi dopo è subitato forse un po' di timore, un po' di paura, un po' di nervosismo e abbiamo perso in certi frangenti un po' il filo del discorso, però c'è stata una grande risposta da parte di tutti questi ragazzi e mi piace ricordare soprattutto quelli che non hanno giocato, soprattutto loro. Sì, abbiamo visto una panchina, l'abbiamo anche descritta, sembrava un torneo positivamente, ovviamente un torneo dei bar tutti quanti amici, tutti stretti, gli uni con gli altri. Questo è il nostro spirito, questo è l'entusiasmo che ci anima, che ci fa andare avanti, che ci fa sperare anche nel momento in cui con un punto solo tutto era complicato e difficile. Onore a Van Basten, onore all'Olanda per come si sono impegnati, ci è stata raccontata una partita dove non hanno mai mollato. Non avevo dubbi, conosco Marco Van Basten, conosco la sua personalità, conosco il suo spessore, poi dopo le partite posso anche finire diversamente, ma quando mi si chiedeva se lo chiamavo mi sembrava veramente una cosa assurda, inutile e anche poco corretta nei suoi confronti. Purtroppo quelle due ammunizioni che ci priveranno di due importantissimi giocatori come Pirlo e Gattuso. Sì, sono due ammunizioni importanti, però dobbiamo pensare che ci sono altri giocatori validi che anche oggi hanno fatto la loro parte e quindi questi poi torneranno buoni per la prossima.